Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin Let's begin Adesso però in diretta continuano i nostri talenti Titti Cameron è pronta per presentarceli in diretta E quindi vi facciamo scoprire chi arriva nella nostra postazione Ascoltatori della notte di By Night Roma Sempre live, come sempre, sempre dal vivo, sempre in diretta Ovviamente dal lunedì al giovedì, da mezzanotte alle 2 Venerdì e sabato, fino alle 3 Sempre in diretta, dal lunedì al sabato By Night Roma Sì, adesso sul nostro palco come al solito si avvicendano Mi piace come termine Si avvicendano più e più artisti Questa volta noi abbiamo i Jack e cravatta band Giusto? Jack e cravatta, punto Voi siete i Jack un po' tipo... Bello, bello, mi piace Allora, ascolta, perché Jack e cravatta innanzitutto? Cioè, chi è Jack e chi ha cravatta? Io so Jack Dai, tu sei cravatta Mi raccomando, vicino al microfono in diretta si sente pop Perché io mi metto la giacca quando sonnavo Mi sembra una spiegazione più che completa Però effettivamente nessuno è Jack, nessuno è cravatta Non è tipo un Lillo e Greg No, 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 sono peggio Ma li vogliamo sentire e scoprire Perché mi hanno detto che hanno delle caratteristiche particolari Che solo, insomma, radiofonicamente parlando È difficile farvele vedere Ve le possiamo solo fare immaginare Sì, tra l'altro Tra l'altro, loro sono anche famosi Perché avete al vostro attimo delle invenzioni curiose, giusto? Cioè, tipo, che cos'è? Loro hanno inventato l'automobile salva spazio Che cos'è l'automobile salva spazio? È un'automobile della quale gli sportelli Per non ingombrare la strada Si aprono verso l'interno Ah, e chi sta seduto dentro? Cioè, quello poco deve interessarti Quanto più gli sportelli, ecco Ah, ok Tu puoi anche morire Per sempre Non ingombri Non ingombri, non ingombri Che ha detto lui? Salvi lo spazio Esatto Salvi lo spazio Senti, invece Ho sentito di un'altra vostra invenzione Che è? Questa la devo leggere in maniera strana Perché altrimenti La bibita anal Trattino Colica Ecco, poi ognuno vuole interpretarla come vuole È scritto così Cioè, la bibita che oltre a colliche renali Causa anche bruciori rettali Oh Dio Comunque, volendo Volendo se venite al Dubai Cafe Potete trovarne a quantità industriale Esatto Il bello di tutto questo Per lui che state scrivendo le loro invenzioni Ha un libricino giallo Nel quale attinge Insomma Il libro delle invenzioni Delle idee Ma poi scusate Cioè, c'ha una chitarra Che è tutto È fatto tutto da sé Da te? Bricolage No, è fatta dagli originali Jack in cravatta Eh Che risalgono Erano i vostri padri, nonni Risalgono da 1815 Sentiamo Abbiamo un'ultima curiosità Dei Jack in cravatta Sì, io voglio sapere Una cosa strana su di voi Ma perché i Jack in cravatta Non partecipano Hanno detto che non partecipano a festival musical Lo contest varie È stato interpretato male È stato interpretato male Noi partecipiamo a festival contest Però? Solo a pagamento Solo a pagamento No, non è vero Paghiamo anzi Ah bene Benissimo per Bainatroma Pagando giustamente Hanno pagato anche Mike G. Romano Ma quindi non è vero Voi li fate i contest Certo, certo Certo Abbiamo pagato Esatto Esatto Ah, ecco perché Io li vorrei far ascoltare Jack in cravatta Sì che cantano il singolo Al comune Radio Radio Virgin Li presentiamo Radio Radio by Night Roma Radio by Night Roma Presenta i nuovi talenti Della nostra romana E quante volte poi Ci siamo chiesti Magari dopo esserci visti Ma dove stavi andando? Ma caso cozza in porta Vedi dove sto andando io Comunque sto andando Al comune Quante volte anche tu Non pensandoci Sei andato al comune Come andare al mare In quelle mattine in quelle mattine d'estate Che profumano d'allegria Quante volte anche tu un giorno Invece di andare al mare Andrai Al comune Al comune Al comune Anche tu Anche tu quante volte un giorno Troverai a dirti Va Non ci stavo pensando Comunque Sto andando Al Dubai Cafè In via Tiburtina 1431 Al radio Al radio radio Beh ora ti saluto Con un po' da fare Sto andando al comune Quante volte Anche tu un giorno Dirai Va Non ci stavo pensando Comunque Sto andando Al radio 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 Beh ora ti saluto Veramente Jack Devono toglierci Dal mercato musicale Jack mi stai ascoltando No Devi ascoltarci Ci stanno togliendo Dal mercato musicale Jack A radio radio Eh Radio radio Eh Garibaldi fu ferito Fu ferito ad una gamba Garibaldi che comanda Che comanda il battaglione Garibaldi fu ferito Perito ad una gamba Garibaldi che comanda Che comanda il battaglione Susanna, non piangere perché ho le palle di riserva nel taschino Del Gile Del Gile Del Gile Gile Del Gile Grazie agli amici di Radio Radio Grandiosi! Grazie per questo omaggio! Non so, penso che per lui sia solo che un complimento, un po' di Renato Pozzetto c'è in te, te lo devo dire Manole tutti, Manole Jack e Cravatta, Titti Cameron Lui è il Renato Pozzetto di Vado a Vivere in Città, cioè quello ancora un po' biondiccio Come va? Tutto bene? È lui o? Come stai? Tutto bene tu? Benissimo No, grandiosi, io so che dovete fare un altro pezzo perché, insomma, in chiusura abbiamo una sorpresa Radio Radio by Night Roma 104.5 禍